Eccoci in diretta, buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati con questo nostro appuntamento consueto ma speciale per seguire la riunione della Banca Centrale Europea, quindi la prima riunione del 2022 con il nostro BCE Board, come sempre naturalmente seguiremo tutto dalla pubblicazione del comunicato fino ad arrivare alla conferenza stampa di Christine Lagarde e la seguiremo naturalmente live. Intanto leggete la notizia con la quale apriremo e tra poco vi racconteremo tutto perché poco prima appunto della Banca Centrale Europea ha deciso la Bank of England di aumentare ancora i tassi, secondo rialzo consecutivo da 0,25% a 0,5% e non succedeva dal 2004 che ci fossero due rialzi dei tassi consecutivi, poi soprattutto in questo periodo naturalmente di mercato decisamente ancora critico. Allora intanto saluto Giacomo Iacomino che sarà con me per questa diretta. Giacomo? Eccoci ben trovati, non solo quattro funzionari della Bank of England hanno sostenuto la necessità di un rialzo dei tassi più consistente da 50 punti basi, date i rischi di un'inflazione più persistente. Quindi siamo saliti a 0,5% ma c'è chi avrebbe voluto un aumento ancora più consistente per un picco di inflazione nel Regno Unito che è previsto sopra il 7% ad aprile. Esattamente, infatti la decisione non è stata unanime, c'era chi avrebbe voluto intervenire in modo più massiccio. Allora, ovviamente il tema poi portante di ciò che seguiremo con la Banca Centrale Europea è proprio questo, cioè cosa deciderà di fare la BCE, anche se il pre-considerazione, pre-riunione lascia pensare ancora che la Banca Centrale Europea si muoverà in modo cauto e quindi non attiverà fin da adesso una politica monetaria differente rispetto a quanto ha fatto fino a oggi. Però sarà interessante capire una cosa, se in qualche modo farà intravedere le prossime mosse, questo è ciò che interessa agli analisti, non tanto quello che da domani cambierà, da oggi cambierà, ma quando e come la politica monetaria si farà meno accomodante perché al centro dell'attenzione c'è sempre il tema dell'inflazione. Peraltro, l'avete visto tutti, insomma, ieri abbiamo avuto i dati nuovi nella zona euro, è salita al 5,1%, quindi ben oltre al target di riferimento del 2% e peraltro è corsa ancora ulteriormente, già nella riunione precedente Christine Lagarde con il board della BCE aveva ancora una volta sottolineato quanto l'inflazione potesse essere ancora sotto controllo e potesse essere temporanea, un po' l'iter che ha seguito, per così dire, il ragionamento di Jerome Powell con la Federal Reserve che poi invece si è trovato a valutare l'inflazione invece come più strutturale e di conseguenza a modificare la politica monetaria. Cosa farà? Alla luce anche dei nuovi dati sull'inflazione. La BCE potrebbe essere cambiato qualcosa? Giacomo, intanto le borse, andiamo a vedere cosa sta accadendo sul mercato perché tutta la mattinata in effetti la debolezza dell'Europa si è intravista e hanno aumentato effettivamente le perite a fine mattinata le borse europee, quindi sono caute chiaramente questo è un atteggiamento sempre un po' interlocutorio di stare alla finestra che hanno i mercati di fronte alle attese di una riunione di questo tipo ma in questo momento che cosa sta accadendo? Allora, intanto aggiungo che oltre ad aver aumentato i tassi di interesse, la Bank of England ha avviato anche il tapering cosa che ancora doveva dare, insomma doveva ancora iniziare, riducendo progressivamente lo stock di titoli pubblici e privati accumulati con i programmi anticrisi degli anni scorsi e finanziati mediante l'aumento delle riserve monetarie riduzione sia per i titoli pubblici sia per i titoli privati, interrompendo i programmi di reinvestimento sulle emissioni che giungono progressivamente a scadenza, a questo punto ricollegandoci a quanto hai anticipato tu è vero che siamo più o meno, è lo stesso iter della Fed, ma c'è una differenza, quando la Fed sosteneva che l'inflazione fosse transitoria la Banca Centrale Europea diceva ma tanto a noi non ci interessa perché loro sono a 7, noi siamo sotto al 5 quindi probabilmente neanche dobbiamo alzarli per farlo tornare attorno al 2% adesso tutto attorno stanno cambiando la propria politica monetaria, l'Europa rimane ferma, la gara rimane ferma ma l'inflazione invece sta salendo, la Bank of England ha detto noi andiamo a 0,5 perché l'inflazione che prevedevamo al 5% ad aprile sarà del 7%, quindi quello che l'Europa potrebbe prevedere ad aprile 2022 attorno al 5-2, 5-3 probabilmente ci saranno delle revisioni a rialzo, ma non oggi perché oggi non ci sarà alcuna previsione macroeconomica tornando alla tua domanda, intanto guardate il movimento della sterlina alla pubblicazione del comunicato stampa che si apprezza da 1,354 a 1,362, quindi non di poco, adesso sta cercando di consolidare in area 1,36 quindi soglia psicologica sicuramente importante, questo è un grafico a 5 minuti tornando al daily come vedete la fiammata c'è ed è al di sopra della media 200 giorni, 200 periodi i mercati come dicevi tu sono ancora deboli, tutti attorno al mezzo punto percentuale di perdite al massimo e questo riguarda il DAX, già il MIB perde lo 0,37, Londra perde lo 0,2% mentre le materie prime si stanno depreciando il petrolio è scivolato sotto gli 87 dollari al barile, anche l'oro è a 1.800, questa mattina eravamo a 1.810 il gas naturale americano è sotto i 5 dollari, eravamo abbondantemente sopra i 5, eravamo a 5,20 questa mattina mentre il gas europeo sale di due punti percentuali, siamo a 78,85 perché aumentano le forze militari le forze militari al confine dell'Ucraina con Russia e Stati Uniti quindi questa è la situazione, a questo punto io anticiperei anche con l'aiuto della regia il primo grafico così ci facciamo un'idea di quello che quantomeno viene previsto poi torniamo anche sul discorso macroeconomico perché è vero che non verranno date delle previsioni però probabilmente bisognerà confrontarsi anche con gli indici PMI che sono stati tra gli altri dati macroeconomici che determinano un po' la crescita dell'eurozona che sono stati un po' deludenti quindi si è vista ancora una crescita in rallentamento, una ripresa in rallentamento contrariamente a quanto forse avevamo messo in conto un po' di tempo fa ma ci arriviamo anche magari parlandone con i nostri ospiti allora andiamo a vedere il cartello giustamente come diceva Giacomo cartello BC e Colomba perché questo è quello che vi stiamo raccontando ma l'inflazione sale, che cosa dice la francesa asset management? François Rimeu in questo caso senior strategist sarà un incontro intermedio, non saranno diffuse previsioni economiche sono improbabili annunci di rilievo o eventuali nuove operazioni di rifinanziamento a lungo termine tutto questo ci sembra prematuro prima di giugno questa quindi è una prima previsione se dovesse cambiare qualcosa avverrà a giugno la Gard riconoscerà che l'inflazione è in un trend in rialzo da qui la necessità già da marzo di rivedere in questa direzione sono le previsioni quantomeno sull'inflazione per quest'anno che il Regno Unito che la Bank of England ha già fatto oggi e ha giustificato in questo modo l'aumento dei tassi aggiungo a proposito dei dati macro che diceva Manuela che c'è questo indice a cui evidentemente Christine Lagarde dovrà dare una spiegazione l'indice dei prezzi alla produzione per l'ultimo mese, quindi dicembre nell'Unione Europea 26,2 rispetto a dicembre 2021 è il massimo storico, sono tre punti o quasi in più rispetto a novembre e siamo sempre alle solite a fronte di un aumento dei costi di produzione così elevato del 26,2 come fanno le imprese poi a rifarsi sul prezzo finale che è l'indice dei prezzi al consumo se quell'indice dei prezzi al consumo è solo del 5% per gli utenti come noi consumatori finale il 5% non è poco perché è una tassa del 5% alla fine dell'anno ma per loro che hanno costi del 26% nel lungo periodo non si può sostenere assolutamente sì, peraltro c'è anche una domanda interessante che pone Francesco noi siamo live anche sui nostri social quindi per chi ci seguisse dal nostro sito se volete interagire oltre al nostro numero di Whatsapp potete farlo sulle nostre live chat appunto su Facebook, su LinkedIn, su Twitter siamo dappertutto in questo appuntamento con la Banca Centrale Europea Francesco scrive Buongiorno, l'Inghilterra va meglio dell'Unione Europea per rialzare i tassi ma allora se facciamo riferimento, adesso poi lo chiederemo anche ai nostri ospiti a livello di inflazione, in realtà in Gran Bretagna ha raggiunto il livello più alto da 30 anni sono stati pubblicati i numeri, supera il 5% quindi in realtà appunto, come dire, intanto mostramo, dico alla regia il Giacomo sta mostrando anche, ecco qua effettivamente il tasso di inflazione è l'elenco dei vari paesi vediamo come a livello di inflazione siamo sopra il 5% anche per quanto riguarda la Gran Bretagna quindi la Bank of England ha deciso, diciamo, come dire quindi non va meglio, ma parlo solamente peggio perché stanno subendo non va meglio, va quasi peggio appunto, hai detto la parolina magica perché l'inflazione del Regno Unito è più alta e se è più alta vuol dire che l'effetto Covid, l'effetto ripartenza, i colli di bottiglia cose che in diretta ma noi le ripetiamo fino allo sfinimento ogni giorno e il Regno Unito lo sta soffrendo più dell'Eurozona che invece ha un'inflazione leggermente più bassa ma leggermente, perché tra 5.1 e 5.4 siamo abbastanza vicini con la differenza che il Regno Unito è un isolone e con un determinato numero di abitanti l'Europa, l'Eurozona invece è molto più strutturata e molto più complessa assolutamente sì, intanto salutiamo anche Angelo Drusiani che ci ha raggiunto il nostro primo ospite, Angelo bentrovato, buon pomeriggio grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio partiamo proprio anche da questa riflessione e poi non abbiamo ancora detto che peraltro tornando al discorso delle decisioni che dovrà prendere la Banca Centrale Europea sul fronte della politica monetaria dovrà comunque, come detto, dare un minimo di timing rispetto alle mosse future e poi anche cosa fare, cosa farà da marzo quando manderà in pensione il piano di acquisto, il PEP che era stato attivato e avviato per arginare la crisi pandemica quindi l'emergenza da Covid-19 per questo sarà importante anche leggere tra le righe credo delle parole di Christine Lagarde allora Angelo, poi naturalmente ti chiedo anche faccio la domanda quella più banale del mondo cosa ti aspetti dalla Banca Centrale Europea però facciamo un passo indietro anche rileggendo un messaggio che ci ha scritto il nostro telespettatore cioè Francesco si riferisce alla decisione della Bank of England di rialzare i tassi per la seconda volta di fila e dice che l'Inghilterra va meglio dell'Unione Europea per rialzare i tassi abbiamo visto che il tasso di inflazione è oltre il 5% quindi in realtà è allineata se non, come dire, ancora più posizionata rispetto all'inflazione dell'intera Europa cosa risponderesti tu? cosa ti senti di dire? perché questa decisione che ha portato avanti la Bank of England e poi andiamo a vedere cosa ti aspetti dalla Banca Centrale Europea la prima che secondo me è una guerra tra anglosassoni nel senso che non vuoi rimanere dietro gli Stati Uniti quindi chiaramente interviene in maniera interviene molto prima dal punto di vista chi va meglio e chi va peggio credo che sia ancora molto presto per stabilirlo perché la pandemia è ancora, non dico in corso però se sta uscendo siamo agli sgoccioli quindi le valutazioni su chi va meglio e chi va peggio secondo me si potranno vedere forse, forse nella metà dell'anno ma soprattutto alla fine dell'anno stesso quindi non penso che il Regno Unito in generale sia a livelli di crescita così forte da poter battere, non so, gli Stati Uniti battere anche la, battere tra virgolette intendo superare gli Stati Uniti e superare l'Eurozona quindi secondo me è chiaro che il è vero la banca centrale del Regno Unito sarà sicuramente autonoma rispetto al governo però un'attenzione a quello che il governo face sempre quindi vediamo che il primo ministro inglese si muove in maniera spesso disarticolata quindi potrebbe essere convinto che il Regno Unito stia andando benissimo e di conseguenza voglio anticipare quelli che potrebbero essere degli effetti sull'inflazione ma se un paese va veramente bene, nel senso che cresce, se cresce tantissimo il paese anche se i tassi si astano di un punto, un punto e mezzo due, è difficile frenare l'inflazione subito ci vorrà qualche tempo quindi secondo me valutare se vada meglio dell'Eurozona vada peggio, se vada meglio degli stessi Stati Uniti io in questo frangente non mi sentirei di rispondere nessino no perché mi sembra, come dicevo prima, un po' troppo presto per valutarlo Ok, ok, ecco mi riaggancio a una frase che hai usato tu Angelo cioè ci vorrà qualche tempo naturalmente per vedere gli effetti sull'inflazione nel momento in cui si, come dire, si portano dei cambiamenti alla politica monetaria tornando alle attese, anzi partendo ancora con te dalle attese per la riunione della Banca Centrale Europea perché mi voglio riagganciare a questa tua frase? perché mi chiedo se a questo punto ciò che si pensa cioè che la BCE, Christine Lagarde non cambierà nulla nella riunione di oggi forse non dovrebbe invece farlo, proprio perché ci vorrà del tempo abbiamo visto un'inflazione europea che è salita anche forse più di quanto potesse aspettarsi Christine Lagarde almeno se ci ricordiamo le sue parole della precedente riunione quindi insomma, cosa ti aspetti e cosa dovrebbe fare secondo te, no? Doppia valenza Io vorrei partire dall'aspetto, tra virgolette, umano del Presidente della Banca Centrale Europea un'europea che ha vissuto tanti anni a New York e che quindi conosce sia la tipologia degli umani dell'aerozona sia degli Stati Uniti quindi sa benissimo che negli Stati Uniti la propensione ai consumi è elevatissima a prescindere da quelle che sono le situazioni le persone sono disposte ad inevitarsi pur di consumare in eurozona questo non accade se non rarissimamente perché gli europei hanno un'attenzione notevolissima a quelle che sono le prospettive del futuro e sono molto più timorose nei confronti del futuro di quanto lo siano gli americani disposti a scommettere sempre su un paese vincente quindi da questo punto di vista il fatto che abbia frenato nelle scorse sedute dicendo che prima vorrà vedere come si muove io credo che non cambierà idea da questo punto di vista al limite potrà dire che se l'inflazione effettivamente si portasse ancora a valori superiori bisognerà cominciare a pensare ad una politica meno accondiscendente di quanto c'è oggi però da questo punto di vista io credo che l'eurozona sia fortunata in questo senso perché avendo una presidente che conosce ambedue le situazioni in maniera da vissuta non da quello che si sente dire quindi io sono convinto che i movimenti che verranno fatti in eurozona saranno movimenti corretti ok ok adesso andiamo subito da Giacomo sai no che per questo comunque Powell da alcuni è stato criticato il fatto di aver agito secondo qualcuno un po' in ritardo perché poi abbiamo visto appunto in America l'inflazione arrivare a 7% secondo qualcuno avrebbe dovuto muoversi più ma la domanda è voleva sì un po' sei visto che alcuni governatori delle federal interne hanno detto signori andate piano ad alzare i tassi perché se blocchiamo la ripresa dell'economia sono fatti negativi e questo è un aspetto non da trascurare perché sì alzare i tassi va benissimo però se poi l'economia si ferma la borsa ha dato i primi segnali vero che la borsa soprattutto è speculazione quindi magari sono segnali eccessivi però la caduta dei valori delle azioni che c'è stata a New York non è stata proprio da quattro soldi allora abbiamo il comunicato stampa e poi torniamo sul discorso della macroeconomia con una domanda per te prima di salutarti allora Giacomo comunicato perdonami è uscito primo trimestre 2022 il Consiglio condurrà gli acquisti netti del PEP a un ritmo inferiore rispetto al trimestre precedente interromperà gli acquisti netti di attività del PEP alla fine di marzo 2022 reinvestirà il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEP almeno fino alla fine del 2024 in ogni caso la futura riduzione del portafoglio del PEP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l'adeguato orientamento chiedo scusa di politica monetaria la pandemia ha dimostrato che in condizioni di tensione la flessibilità nella configurazione nella condizione degli acquisti di attività ha contribuito a contrastare le disfunzioni nella trasmissione della politica monetaria a rendere più efficaci gli sforzi tesi a raggiungere l'obiettivo del Consiglio direttivo in condizioni di tensione la flessibilità rimarrà un elemento di politica monetaria dove i rischi della trasmissione mettono a repentaglio il conseguimento della stabilità dei prezzi quindi flessibilità sicuramente in caso di ulteriore frammentazione i reinvestimenti del PEP potranno essere adeguati in maniera flessibile ciò potrebbe implicare fra l'altro l'acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica ellenica in aggiunta ai reinvestimenti al fine di scongiurare che un'interazione di acquisti del Paese possa compromettere la trasmissione della politica monetaria all'economia greca questo insomma è un approfondimento proprio sulla questione dell'economia greca all'interno del comunicato stampa e poi programma di acquisto di attività e quindi il cosiddetto app gli acquisti mensili saranno paghi a 40 miliardi di euro nel secondo trimestre 2022 e a 30 miliardi nel terzo trimestre a partire da ottobre il consiglio direttivo manterrà gli acquisti netti nell'ambito dell'app a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro queste sono le considerazioni sul tassi di interesse rimarranno invariati 0% 0,25% meno 0,5% mi interessava capire se si parlava in qualche modo anche dell'inflazione in realtà no si parla sempre dell'obiettivo del 2% direi di no operazioni di rifinanziamento ok no questa è la situazione non nessun riferimento alla oscillazione del dato dell'inflazione cambiamenti sì nell'ambito del PEP alcune conferme e dell'app esatto Angelo un commento prima di salutarti visto che abbiamo il comunicato vorrei solo fare prima un bellissimo riferimento alla situazione riguardo alla Grecia confrontandola con quello che fu fatto alcuni anni fa sempre nei confronti della Grecia con la partenza di un grande paese che ha spinto soprattutto perché ciò accadesse per far capire le differenze che c'è tra persone e persone al di là di quello io credo che dal punto di vista del comunicato ribadisce più o meno quello che è stato detto nelle precedenti riunioni perché c'è questo approccio molto meno tecnocratico di quanto lo possa essere negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni in generale perché siamo etnie diverse non si voglia o no è così e quindi avere sia a cuore secondo me con queste dichiarazioni con questo approccio l'attenzione che possano avere le persone il timore che possano avere le persone nei confronti di un'inflazione che dovesse crescere in maniera importante che potesse spaventare perché è vero adesso i dati sono questi ma tra due mesi signore ricordiamoci una cosa con queste bollette da pagare ma quanto rimane per i consumi? siamo sicuri davvero che tutto quello che viene prodotto e portato sui mercati a prezzi esosi verrà consumato? Io francamente sono abbastanza scettico quindi non mi sorprenderebbe che l'inflazione nei costi dei prossimi mesi potesse scendere da questi livelli io sono una sostenitrice del fatto che sia assolutamente troppo presto andare a vedere le previsioni proprio per questo motivo che hai detto tu abbiamo ancora un problema enorme legato ai prezzi alle bollette al fatto che le persone non riescano a sostenere le spese potere d'acquisto che si va ad affossare a nientare quindi questo bisogna vedere fino a che punto sarà così e quindi di conseguenza potremo trarre tutte le conclusioni per questo anche il discorso macroeconomico che accennavi tu prima sarà fondamentale e sono curiosa anche di capire quanto si concentrerà su questo Christine Lagarde lo sentiremo poi nella conferenza stampa intanto grazie Angelo Drusiani per essere stato con noi naturalmente a presto sulle fonti tv e tra poco andiamo a vedere anche poi più nel dettaglio come dire i movimenti di mercato però vediamo già come magari una prima reazione dei mercati ha comunicato della banca centrale europea come stanno reagendo? Euro debole meno 0,22% questo è sempre il grafico a 5 minuti come vedete c'è un movimento verso il basso stava gravitando in area 1,12 e 95 è scivolato a 1,12 e 75 quindi 0,20 di pips insomma nel grafico a 5 minuti comunque la candela è piuttosto ampia e ribassista adesso nella seconda diciamo candela quella attuale vediamo che sta già cercando di recuperare quanto quanto smarrito interessante anche notare sterlina dollaro che dopo l'impennata fino a 1,36 e 28 il tentativo di galleggiare su 1,36 in realtà ha già dimezzato diciamo l'apprezzamento della sterlina alla pubblicazione del comunicato della Bank of England infatti siamo già a metà e siamo tornati di nuovo sotto 1,36 1,35 82 anche i guadagni della sterlina si stanno oramai riducendo a 0 tant'è che il cambio è molto vicino alla parità più 0,07% euro dollaro invece l'euro è in perdita sta cedendo lo 0,16% questo nel grafico a 5 minuti che poi Giacomo stavo ragionando anche sul fatto che come abbiamo detto e visto per la Bank of England una decisione quella di rialzare di alzare i tassi per la seconda volta di seguito non è stata unanime sarà interessante anche capire all'interno della Banca Centrale Europea quando emergeranno evidentemente delle posizioni differenti abbiamo visto insomma un po' tutto nelle attese dalla lettura del comunicato ma probabilmente anche all'interno del board emergerà qualcuno che invece più da falco avrebbe voluto agire fin da adesso questo è chiaro c'è un nome che mi sono segnato che è il parere contrario più forte che è quello di Isabel Schnabel la quale già in passato già insomma in queste settimane ha detto l'Eurotower non potrà fare finta di non vedere l'aumento dei prezzi dell'energia di cui parlavate poco fa tu e Angelo appunto per quello poi sarà interessante come dicevo anche io poco fa adesso ne parliamo nuovamente capire come si rapporterà alle previsioni economiche alla crescita ai dati macroeconomici insomma non in ultimo gli indici PMI che mostrano come a inizio 2022 in Europa la crescita perda ancora più vigore questo è da sottolineare ancora più vigore in realtà invece forse si era messo in conto che la crescita invece dal 2022 avrebbe potuto dare dei segnali più positivi insomma ancora non è così Saverio Berlinzani buon pomeriggio ben trovato grazie per essere con noi buongiorno a tutti ciao Manuela e buongiorno a Giacomo ciao Saverio ciao Saverio allora allora tante cose da dire anche con te naturalmente poi ci concentriamo su Eurodollari sui cambi principali però ti chiedo un tuo parere insomma a caldo dopo la pubblicazione del comunicato e soprattutto se tu ti posizioni lasciami dire questa cosa più dalla parte dei falchi o più dalla parte della colomba cioè se secondo te la BCE in questo momento dovrebbe fare uno o l'altro dovrebbe prendere uno o l'altra posizione ecco allora avete detto molto bene voi poc'anzi quando insomma avete ribadito il concetto che non si può far finta di non vedere l'inflazione a questi livelli ricordo che l'inflazione in Gran Bretagna è intorno al 5,4% in Europa è al 5,1% quindi non è molto distante da quella inglese gli inglesi ci sa sono ben determinati da tempo a pensare ad un rialzo dei tassi lo hanno fatto si pensa che i tassi possano salire ancora almeno due o tre volte quindi portarli tra l'1% e l'1,25% per la BCE attenzione lo vediamo sostanzialmente io credo che oggi la Gardner non potrà far finta di non vedere dicevo e quindi dovrà dichiarare qualcosa a favore di un possibile futuro rialzo del costo del denaro poi si sa che l'Europa è sempre più lente quindi è behind the curve come dicono gli inglesi cioè in ritardo rispetto alla curva dei tassi però è anche vero che abbiamo visto i tassi e i titoli di Stato le obbligazioni anche tedesche che sono salite e sono tornate positive dopo un po' di tempo quindi c'è un mercato in fermento e a mio modo di vedere qualcosa cambierà la sostanza è che sul mercato si è visto per ora un rafforzamento della sterlina però in questo momento io credo che il mercato stia scontando anche delle dichiarazioni o da parte di Lagarde io penso che sia importante un rialzo dei tassi adesso per dare un segnale ma successivi rialzi dei tassi secondo me sarebbero estremamente pericolosi perché i dati stanno già mostrando un rallentamento e il fatto che le banche centrali siano rimaste troppo behind the curve in passato cioè hanno detto troppo in ritardo che l'inflazione era strutturale potrebbe andare a causare un ritardo anche nel rialzo un anticipo nel rialzo dei tassi rispetto ad un mercato che sta già come dire evolvendosi verso non dico una recessione ma un rallentamento più marcato infatti il discorso del ritardo con il quale secondo qualcuno le banche europee si sono mosse è un po' il punto che abbiamo analizzato poco fa ed è l'errore che deve cercare di evitare la banca centrale europea collegandoci al fatto che non può far finta di non vedere intanto arrivano delle considerazioni intanto proprio a livello proprio di mercato le borse sono attendiste moderatamente negative se non aumentano i tassi saliremo sui massimi di ieri altrimenti ci sta un ritorno a 27 mila punti di fib e poi a proposito dell'azione delle banche centrali europee appunto il fatto che abbiano continuato a stampare 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 per comprare debito che nessuno voleva qualcosa ora si dovrà pur pagare infatti giusto ancora un cenno su questo Saverio anche su quello che dicevi tu poi andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio le principali valute a partire dall'euro dollaro la politica monetaria sarà ancora espansiva anche se in misura minore questo lo abbiamo capito però sicuramente non deve essere una scusa per fare debito cattivo è un po' il problema che veniva segnalato anche da quello che è successo in questi anni no? Assolutamente sì il problema del debito è un problema strutturale lo sappiamo poi per qualcuno non lo è ricordo che gli Stati Uniti ieri hanno superato tra ieri e ieri l'altro hanno superato i 30 mila miliardi di dollari di debito rispetto a un PIL di 24 mila miliardi siamo al 103 oltre il 130% del PIL in Europa la stessa cosa c'è fatto debito la Spagna è arrivata al 120% l'Italia sappiamo che è al 160% siamo ben oltre i livelli oltre i quali vi ricorderete la Grecia era stata commissariata ed era in Grecia è arrivata la Troica quindi se dovessero essere ripristinati i parametri di Maastricht io non so come potranno giudicare anche se il debito italiano è un debito che in certi momenti diventa sostenibile nel medio periodo perché comunque sono in atto delle riforme strutturali importanti però sappiamo benissimo e siamo tutti a conoscenza del fatto che siamo ben oltre i livelli a cui la Grecia venne commissariata quindi qualcosa potrebbe accadere bisogna cercare di capire quale sarà la tendenza globale perché qualcuno parla di monetizzazione del debito in una situazione di azzardo morale che va avanti dal 2009 potrà andare avanti ancora? Non lo sappiamo certo è che se ne parla meno di prima io ricordo nel 2012 2013 si parlava di questo azzardo morale come un qualcosa che non si poteva assolutamente più derogare oggi non se ne parla più con dei debiti ben superiori dovuti evidentemente alla necessità di stampare durante il periodo della pandemia Ok Giacomo Allora Saverio tre brevi considerazioni che poi puoi rielaborare come meglio credi ovviamente la prima riguarda un passaggio del comunicato stampa e cioè primo trimestre 2022 il consiglio sta effettuando acquisti netti di attività nell'ambito del PEPA a un ritmo inferiore rispetto al trimestre precedente e conferma la sospensione a fine marzo 2022 la seconda considerazione nel comunicato stampa si parla appunto di interventi per quanto riguarda le obbligazioni emesse dalla Repubblica Ellenica di cui è già accennato qualcosa la terza considerazione mi la faccio accompagnare dal secondo cartello che abbiamo realizzato regia BCE con il pilota automatico per tutto il 2022 questo ovviamente è la domanda ecco qua che cosa può succedere da qui fino a marzo dicembre che cosa è successo fine degli acquisti netti del PEPA a marzo confermato oggi acquisti mensili a tempo indeterminato da 20 miliardi per quanto riguarda l'app da ottobre oggi l'idea è che ci sarà al massimo una presa di coscienza che l'inflazione non è più transitoria marzo nuove proiezioni macroeconomiche che oggi non arriveranno revisioni a rialzo inflazione per il 2023 2024 e un percorso di crescita accelerata Saverio scegli tu da dove partire ho messo un po' di argomenti un po' di temi sul tavolo oddio la situazione è abbastanza complessa perché non vorrei che il ritardo della BCE rispetto al rialzo dei tassi alla fine sia giusto per il semplice fatto che le economie sono già in rallentamento oggi è uscito il PMI italiano a 48,1 insieme alla Spagna sono usciti al di sotto di 50 e i dati tedesco francese sono in linea quello tedesco rimasto anche lui leggermente in linea o leggermente superiore ma comunque in una fase già di ripiegamento della congiuntura negli Stati Uniti è uscito un ADP ieri a meno 301.000 sono usciti i dati già sulle vendite al dettaglio nelle ultime settimane peggiori delle attese se la congiuntura si gira questo rialzo dei tassi è assolutamente deleterio quindi a rimanere fermi forse sarebbe la situazione ideale da un certo punto di vista se questo rallentamento venisse confermato certo è che si rischia la stagflazione non è vero che nessuno parla di stagflazione l'altro giorno Daily della Federal Reserve ha detto non pensiamo ad andare in stagflazione il solo fatto che se ne parli secondo me è estremamente pericoloso perché evidentemente siamo in una condizione in cui potremmo rialzare i tassi per dover far fronte ad un'inflazione da costi e dall'altra parte però ci ritroviamo a danneggiare la ripresa economica che sta uscendo appena appena in questi momenti dalla pandemia e forse non sappiamo se non uscirà definitivamente e quindi la questione secondo me è aperta siamo in una situazione di incertezza la BCE chiaramente sta facendo tapering il fatto che vada a zero col PEP a fine marzo e adesso aver ridotto gli acquisti evidentemente significa drenare liquidità non è come rialzare i tassi però insomma lo vedremo il rischio però a questo punto che ci sia una congiuntura e un rallentamento per effetto del rialzo dei tassi e in questo momento potrebbe essere un rischio realistico ti leggo un messaggio di un amico poi magari andiamo a vedere le tue previsioni sui cambi così vediamo anche graficamente soprattutto a partire dall'euro dollaro l'ho detto già due volte ma adesso ci arriviamo ciao Saverio ottimo punto di vista il tuo il segnale di un ritardo è dato anche dai bond europei 5 anni 30 anni che indicano livelli del 2008 il mercato lo sta urlando da tempo ricordo che questa inflazione non è dovuta principalmente per la liquidità insomma ci sono altre ragioni dice il nostro amico Saverio beh sì dunque che abbiano immesso una liquidità enorme sui mercati è evidente è altrettanto evidente che l'inflazione è dovuta a dei colli di bottiglia dal lato dell'offerta la domanda c'è stata perché le aziende hanno ripristinato le scorte ma queste scorte adesso vanno vendute bisogna vedere se da adesso in poi i dati reali su le vendite a dettaglio i consumi il mercato immobiliare e gli stessi indici dei direttori di acquisti PMI riescono a mantenere il ritmo di crescita dell'inflazione se non lo fanno la situazione diventa pericolosa se e a quel punto le banche centrali dimostrano di essere in ritardo e non hanno più molti strumenti perché tornare indietro a eventualmente adottare un QI cioè ad allargare la base monetaria nel caso in cui si dovesse entrare malauguratamente in una recessione è chiaro che ci vogliono tre trimestri però perché sia tale però sarebbe estremamente grave da un punto di vista delle soluzioni possibili da adottare successivamente e la perdita di credibilità dell'intero sistema secondo me potrebbe essere significativa ora io non voglio fare catastrofismi tantomeno tantomeno segnalare allarmismi che in questo momento non ci sono basti vedere i mercati azionari che continuano a tenere perfettamente i livelli hanno stornato ma stanno ritornando a salire vedremo se ci sarà se sarà un fuoco di paglio oppure se questo riscoffo la versione a rischio prenderà piede in questo 2021 nel 2022 come qualcuno azzarda ok ok allora andiamo sull'euro-dollaro Saverio per avere una tua view beh super-dollaro che ha fatto seguito alle parole di Jerome Powell ieri insomma dopo dopo qualche giorno l'euro ha tentato il recupero adesso invece è ancora giusto siamo a 1,12 Giacomo in questo momento allora è interessante perché c'è stato il ribasso immediato alla pubblicazione del comunicato ma poi si è subito rimangiata diciamo così la candelina la candelona a 5 minuti e ci siamo riportati nuovamente in area 1,12 e 9 dove si gravitava diciamo quantomeno a partire da un'ora prima della pubblicazione del comunicato da adesso in avanti Saverio secondo te cosa potrebbe succedere al cambio? allora intanto 4 giorni al solo quando aveva buccato l'area di 1,11 e 80 io avrei pensato e avrei detto che il super dollaro avrebbe portato i prezzi tranquillamente in area 1,9 1,10 il fatto che si sia girato così improvvisamente anche il dollar index abbia fatto un'inversione e si è salito al di sopra nuovamente di 1,12 1,40 1,12 1,60 mi fa pensare che la fase di accumulazione che in questo momento stiamo vedendo a minimi crescenti di breve e massimi crescenti e possa avere un seguito però bisogna rompere il livello di 1,13 e 50 1,13 1,60 che sono poi tutta una serie di aree di congestione che aveva fatto a partire da 30 novembre fino alla fine di dicembre se andiamo sopra 1,13 1,60 andiamo a recuperare anche 1,14 1,75 che è il punto chiave per cambiare il trend di medio termine quindi in buona sostanza trend ancora negativo ma correzione importante correzione importante è dovuta a cosa? ai dati sul mercato del lavoro del settore privato americano se domani però sono negativi attenzione al dollaro perché allora potrebbe scendere più strutturalmente e invece appunto rispetto ai dati macroeconomici cosa ti aspetti oggi nella riunione nel senso che appunto li hai citati anche tu prima gli indici PMI che danno l'idea di una crescita che perde ancora più vigore peraltro la Spagna è stata una nazione che ne ha risentito maggiormente la Germania si posiziona ancora in una situazione diciamo di comfort zone tra virgolette perché poi ovviamente si naviga vista l'Italia è scesa sotto 50 insomma non può non far conto tener conto di questo torniamo sempre al tema portante che non si può far finta che la situazione sia sotto controllo sotto tanti aspetti sì beh la Garda deve far fronte a un'inflazione in Europa che è uscita superiore all'attese con l'inflazione italiana uscita superiore all'attese quindi in qualche modo l'inflazione sta salendo ed è pericolosa il petrolio con l'OPEC che ha deciso il nulla di fatto praticamente con un aumento di 400 mila barili al giorno che sono niente rispetto a quello che servirebbe con un un oro che rimane un petrolio che rimane sopra gli 86 dollari al barile e quindi un'inflazione da costi un'inflazione della strozzatura dell'offerta e dall'altra parte un rallentamento economico questo è estremamente preoccupante per le banche centrali perché da un lato devono cercare di comunque refrenare l'inflazione dall'altro non devono danneggiare la congiuntura e il recovery che comunque c'è e comunque in questo modo drenando liquidità questo recovery lo stanno per forza leggermente danneggiando perché era nei piani quindi questo dimostra quanto sono stati indietro rispetto alla curva dei tassi e questo dimostra che adesso si trovano un po' con le armi spuntate in una situazione che è pericolosa perché si trovano in un angolo devono alzare i tassi ma non possono alzarli troppo perché altrimenti inficiano la crescita l'Europa addirittura ha deciso di non alzarli forse ripeto forse in questo momento diventa la decisione migliore perché alla fine si evita di arrivare troppo in ritardo creando più danni di quelli che sarebbero i benefici ok guardare la situazione macroeconomica sotto entrambi i punti di vista se continueremo a crescere e la crescita sarà comunque robusta in linea generale con l'inflazione che sale dobbiamo cercare comunque di mantenere quello status quo se invece vediamo che la crescita non è sufficiente a recuperare quella che è l'inflazione beh lì dobbiamo intervenire in altro senso quindi si lasciano aperte secondo me tutte le possibilità a ribasso e rialzo e questo significa che è una missione di responsabilità secondo me rispetto al discorso siamo in ritardo sulla comunità se adesso non sappiamo cosa fare dobbiamo guardare i dati nel loro dettaglio cercando di stare il più fermi possibile perché muovendosi si rischia di fare dei danni ok possiamo salutare Saverio ti viene in mente ancora qualcosa è l'ultimissima ma curiosità Saverio perché poi insomma più o meno avevamo anche parlato di recente quindi in più si sono comunque aggiunti ulteriori dati c'è l'inflazione dei prezzi alla produzione Saverio in Eurozona che oggi sono aumentati ancora siamo a oltre il 24% dal 23,6% precedente e siamo ai massimi storici o meglio sono stati aggiornati i massimi storici qui Christine Lagarda torniamo all'argomento di prima o quantomeno all'inizio della nostra conversazione non può più far finta di non vedere? ma per quello scusate mi inserisco solo per dire per questo che dire Christine Lagarda oggi non dirà nulla di che è un po' riduttivo Saverio perché in realtà è vero magari non attiverà fin da subito la Banca Centrale Europea dei cambiamenti però tutte queste considerazioni andranno fatte e daranno l'idea di quello che succederà nei prossimi mesi quindi insomma dire tutto tranquillo tutto normale insomma un po' limitante non è assolutamente tutto normale l'avete detto bene voi poc'anzi quando avete detto che la BCE si troverà aperta in entrambe le direzioni vuol dire che siamo a un bivio e qui i dati faranno la differenza e i PPI che sono usciti a questi livelli a dei livelli a più 26% su base annua sono indicativi sul fatto che dal punto di vista dell'offerta siamo in una situazione estremamente complicata perché le strozzature e i colli di bottiglia come li definisce Jerome Powell sono presenti e chiaramente non sono un'inflazione da domanda ma sono un'inflazione da ripeto dal lato dell'offerta e se la domanda non tiene la situazione è grave Lagarde dovrà dire qualcosa altro che non dire niente e chiaramente se non dirà niente però comunque qualcosa lascerà intendere rispetto a una scelta Okish o una scelta Dovich adesso hanno scelto il lato Dovich ma attenzione forse l'hanno fatto perché si rendono conto che è tardi ad alzare i tassi in questo momento ok ok grazie Saverio Berlinzani a presto sulle fonti tv buona giornata Grazie a voi arrivederci Grazie Sì appunto è troppo facile Giacomo dire che la banca centrale europea proseguirà nella sua politica monetaria accomodante sono cambiate tante cose e soprattutto stanno cambiando tante cose soprattutto non si può arrivare in ritardo sulle questioni perché ovviamente stiamo assistendo a una crescita soprattutto dell'inflazione che insomma desta preoccupazione anche l'Ox è intervenuta insomma è il più forte aumento anche proprio considerando il tema energetico eccetera nella zona Ox e non si vedevano questi livelli insomma da 30 anni quindi siamo al 6,6% il nuovo aggiornamento che è il massimo da 30 anni come dicevi tu nei 12 mesi rispetto al dicembre 2021 che era il 5,9 e contro l'1,2% segnato un anno prima non si andava così in alto da luglio 1991 poi c'è da dire che a incidere in questo senso c'è anche la Turchia che ha un'inflazione anomala insomma rispetto a tutto il resto forse del pianeta che è registrato il 36,1% nell'ultimo mese del 2021 dal 21,3% che comunque non erano bruscolini di novembre peraltro insomma diciamo che poi può anche la comunicazione può anche essere mal interpretata un conto è dire come stiamo dicendo noi che decisioni forti non arrivano dalla BCE perché non è stato neanche in qualche modo accompagnato ma può essere che a livello comunicativo Christine Lagarde dovrà dare qualche spiegazione in più anche perché settimana scorsa prima in radio ha detto l'inflazione scenderà poi quando è stata pubblicata l'inflazione il giorno dopo dell'Eurozona a ridosso dei 5% ha detto beh no forse qualcosa dovremmo cominciare a considerare in maniera più significativa quindi c'è una domanda interessante mi spiace che Saverio è andato nel senso che non so se poi possiamo chiedere al nostro prossimo ospite però sicuramente sarà interessante magari fare un approfondimento che peraltro abbiamo fatto in questi giorni ma non alla luce della decisione della Bank of England perché Federico scrive buonasera Manuela potrebbe chiedere al suo ospite la view sul BTP perché il BTP Future ha preso una bella sberla dopo la Bank of England quindi capire anche come cambia l'andamento del BTP dopo dicevo abbiamo fatto un approfondimento in questi giorni diciamo del BTP dopo l'elezione di Mattarella quindi altra questione però vedere proprio l'andamento del BTP e magari lo faremo adesso appunto ripeto tra poco avremo un altro ospite ma non so se possiamo magari sì possiamo non con Alessandro che è il nostro prossimo ospite però insomma da qui alle 5 e mezza ne abbiamo esatto infatti stavo dicendo intanto Alessandro Manunta è collegato con noi lo salutiamo poi grazie ciao Alessandro buongiorno ciao Manuela buongiorno eccoci qui poi giustamente Giacomo noi siamo in onda fino alle 17.30 oggi quindi ci sarà modo sicuramente di andare a vedere anche questo aspetto quindi grazie per i messaggi allora Alessandro una tua view abbiamo 5 minuti ma riusciamo a fare tutto una tua view sul mercato dopo la pubblicazione del comunicato stampa cosa ti aspetti dalla conferenza di Christine Lagarde e Giacomo intanto possiamo andare anche sui grafici dei cambi allora Alessandro esatto soprattutto Alessandro volatilità da 1 a 10 su Eurodollaro dopo la pubblicazione Eurodollaro e sterlina dollaro dopo i due comunicati mi aspettavo meglio onestamente quindi voto 5 per il momento già mi aspettavo mi aspettavo meglio invece il prezzo fondamentalmente rimane a dove era prima dei comunicati sta battendo in questo momento Eurodollaro fu una 1,12,8 lì continua a rimanere io in realtà mi aspetto ancora che uno storno ci debba essere per quanto riguarda Eurodollaro potremmo rivederlo intanto come primo target su 1,12,5 e quindi 1,12,5 poi 1,12 2,60 come secondo target quindi secondo me scenderà ancora ancora un po' anche perché ha lì quello ciclico a tempo fino a domani mattina per andare giù quindi in discesa Eurodollaro in discesa Eurodollaro io sono su un grafico a M5 quindi a 5 minuti non so se tu invece sei sempre su quell'orario che è quello che osserviamo di solito durante i collegamenti e c'è proprio una forte congestione quasi inedita diciamo così di solito si va su e poi se proprio bisogna recuperare il terreno perduto viene recuperato pian pianino invece stavolta se l'è rimangiata nel giro di 10 minuti insomma quella più il nostro simpaticissimo microfono che si sta con i due e anche lui è un po' così timoroso nel sentire quello che potrebbe dire Cristin Lagardi insomma allora si defila esatto si defila anche lui a paura che la BCE possa fare qualche mossa sbagliata allora stavi dicendo Giacomo eccoci grande congestione nelle contrattazioni di euro-dollaro attorno a diciamo valori molto molto ravvicinati insomma tra 1,12 e 75 e 1,12 e 94 stiamo parlando proprio di pochi di micro pips sostanzialmente dicendo benissimo già non solo perché io per primo mi aspettavo almeno una salita fino a 1,13 e 3 per quanto riguarda l'euro-dollaro per poi andare giù cosa che invece non è detto che ancora non abbia la possibilità di farlo quindi rivedere magari un doppio massimo su quello che ha fatto ieri in zona 1,13,2,80 circa per poi andare giù avrebbe il tempo perché ripeto siccome dovrebbe andare a battere un minimo poi ciclico settimanale domani mattina ci sarebbe tutto il tempo per andare oggi pomeriggio a prendere il massimo e poi in serata in nottata e tutta domani mattina a tirare giù quindi non lo escludo e me lo aspettavo sinceramente con un po' più di volatilità invece che ancora questa congestione ci fa ancora capire che i mercati sono prudenti molto prudenti e speriamo che la smettano sulla sterlina invece che cosa ci racconti sostanzialmente il recupero c'è stato totale dopo l'impennata fino a 1,36,3 è avvenuto diciamo sempre in tempi molto stretti ma non così stretti come euro-dollaro esattamente perché dal 27 di gennaio quindi la settimana scorsa la sterlina una volta battuta a zona 1,33,6 1,33,5 1,33,6 è ripartita con una volatilità rialzista molto molto importante il problema adesso che ha è che un'ora fa sulla cannella di un'ora fa quindi sempre sul time frame H1 è andata a battere questo massimo volumetrico o questa resistenza volumetrica in zona 1,36,2,50 e questa per lei è una resistenza molto molto importante quindi vediamo adesso se ne ha perché per quanto mi riguarda la sterlina almeno fino in serata è rialzista e quindi potremo secondo me rivederla su quella zona è chiaro che poi anche lei domani dovrà andare domani dopo domani a battere dei minimi quindi secondo me potremmo poi rivederla fondamentalmente in zona 1,35,2,50 1,35,3 se non so se hai un'ultima domanda se non salutiamo poi Alessandro facciamo un check prima di dedicarci alla conferenza stampa di Christine Lagarde l'ultima è se ti aspetti più volatilità durante la conferenza di Christine Lagarde possiamo cambiare ulteriormente qualcosa mentre lei parla beh si leggerà tra le righe lì si ascolterà il tono di Christine Lagarde sai che è molto importante in questa fase se ci chiedi o se ci speri ah beh me l'aspetto e la spero soprattutto quindi assolutamente spero che si sia un po' di volatilità ma penso anche di sì secondo me i mercati adesso congestionano ormai da tante ore specialmente l'euro ma anche la sterlina possiamo vedere comunque tante ore che stanno a battere sempre in zona 1,35,8 1,35,4 quindi sta ballando tra quei 40 pips là per me volatilità ci sarà e ci deve essere anche perché poi a livello ciclico deve andare a prendere un massimo quindi secondo me una ventina di pips almeno un po' di vita li farà durante le notizie e ce lo auguriamo un po' tutti d'accordo allora intanto grazie Alessandro Manunta che troviamo comunque nella nostra programmazione sulle fonti tv durante le nostre dirette grazie per essere stato con noi e buona conferenza stampa grazie ragazzi buona conferenza anche a voi salutate alle spettatori e poi tutto ciò che abbiamo detto nel pre-bice andremo a vedere se effettivamente si è verificato nel post al di là del fatto che adesso seguiremo tra poco la conferenza stampa che parte alle 14.30 tra poco lasceremo posto Alexandra Giorgeva che come sempre tradurrà simultaneamente le parole di Cristi Lagarde subito dopo naturalmente proseguiremo con la nostra programmazione a partire dalle 15.30 per il post per capire se effettivamente le attese poi si traducono in un dato di fatto sui mercati peraltro oggi pomeriggio non c'entra niente ma c'è anche il giuramento di Mattarella e quindi vedremo anche se questo andrà a fare qualcosa sul mercato italiano ma insomma oggi pomeriggio come suggeriva il nostro amico che ha scritto a partire però lui lo chiedeva dalla decisione della Bank of England allora posso far vedere peraltro di cosa stava di cosa parlava il nostro amico se vado sul sul BTP italiano vediamo dov'è eccolo qua 1.479 questo è il grafico orario che in effetti ci fa già vedere come oggi insomma siamo arrivati a un massimo di rendimento a 1.49 quindi 1.5 arrivò su 1.5 poi è più o meno quando la Bank of England si è espresso ecco che c'è un consolidamento dei massimi ma insomma nel grafico a 15 minuti a M15 vedete come abbia in qualche modo dimezzato un'impennata che si era registrato a luna quindi non so quanto sia diciamo da considerare una mazzata di calo di rendimento del decennale dalla Bank of England anche perché arrivava da una spinta ulteriore poco prima della pubblicazione del dato quindi adesso sta semplicemente ricucendo quell'impennata che aveva registrato mezz'ora prima della pubblicazione allora adesso vi salutiamo ricordiamo la Banca Centrale Europea che ha deciso di rimanere ferma almeno a quanto abbiamo letto nel comunicato stampa a confermare le indicazioni che erano state fornite nell'armione di politica monetaria precedente quindi in quella di dicembre tassi fermi acquisti PEP in esaurimento operazioni di rifinanziamento alle stesse condizioni fondamentalmente si muove in modo diverso rispetto a quanto ha fatto la Fed e la Bank of England che tre quarti d'ora prima invece ha deciso di alzare per la seconda volta di fila i tassi di riferimento di 0,25 punti percentuali allo 0,5% sentiremo effettivamente su cosa si concentrerà Christine Lagarde e come comunicherà diciamo la decisione ai mercati agli investitori è quello che ci aspettiamo e aspettiamo tutti Eugenio Sartorelli dice che la sfiducia se rimane anche a me l'ha detto tante volte secondo lui avrebbe dovuto fare qualcosa per quello si parlava di un eventuale ritardo con il quale perché adesso magari tutti dicono ok la BCE sta ferma sì ma poi quali conseguenze avrà questo atteggiamento ancora da Colomba rispetto alle altre banche centrali europee in un momento in cui sicuramente l'economia ci sta gridando qualcosa ci sta urlando qualcosa bisogna essere lungimiranti vedremo se la considereranno tale insomma i mercati forse anche questo l'aspetto più preciso da valutare allora Giacomo grazie naturalmente a Giacomo Iacomino noi non ci fermiamo naturalmente continuiamo a rimanere live sul sito ma anche sui social per la conferenza stampa di Cristi Lagarde tra pochissimo appena inizia ci saremo anche noi e poi ci ritroviamo alle 15.30 con i nostri ospiti per proseguire con la programmazione a più tardi restate sulle fonti tv grazie a tutti